Presidente Seracchiani, quest'oggi doppio appuntamento in Val Pesarina, innanzitutto un incontro istituzionale con il municipio di Eprato Carnico. Che cosa vi siete detti e quali sono gli impegni? È stata l'occasione per un incontro con il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori per parlare anche di importanti investimenti sul territorio. Questa è la terra degli orologi, Pesaris è conosciuta in tutto il mondo, noi vogliamo farla conoscere ancora di più. C'è bisogno però di investire in alcune infrastrutture importanti, innanzitutto recuperare quella che può essere l'area da dedicare al museo dell'orologio e del tempo, dove potrebbe anche iniziare un percorso importante di natura didattica con le scuole e con tutti coloro che ci raggiungono, non solo per ammirare questi splendidi orologi ma anche per capire come funziona davvero il corso del tempo. Poi ci sono importanti investimenti che possono essere fatti di tipo turistico sulla ricettività, non ci dimentichiamo però che è anche un territorio che ha delle importanti aziende e l'area artigianale è un'area di Prato Carnico nella quale ci sono degli insediamenti interessanti, occhialerie, l'indotto dell'automotive lighting, alcune aziende importanti che fanno anche lavori di grandissima qualità come i fratelli Leita che costruiscono clavicembali. Quindi c'è davvero la cultura della tradizione e dell'innovazione che è forse uno degli aspetti più importanti del nostro territorio, in particolare della nostra montagna. In particolare le aziende che lavorano nella zona montana hanno sempre bisogno di un appoggio, un sostegno, mi pare che sia questo anche uno dei messaggi che gli è stato dato dagli imprenditori. Naturalmente ci vuole un'attenzione in più, un'attenzione in più per le particolarità del territorio, per le difficoltà che si possono incontrare, pensate soltanto ai trasporti, ai viaggi ma anche semplicemente alla ricerca delle professionalità. Qui però abbiamo aziende che sono riuscite ad impiantare delle attività importanti e che fanno un investimento sui lavoratori, sul territorio ma anche sulla capacità di mantenere una produzione di qualità. La regione ovviamente deve esserne consapevole e deve aiutare anche questi percorsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.